Ciao ragazze, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Come vedete sono tornata con un altro video. Sono in assoluto relax, in tenuta post workout. Sono messa in divano e quindi se sono in divano e sono in salone è il momento di un bel video tag. Ci sta tutto, veramente. Allora, a me i tag piacciono tantissimo farli, girarli, perché ci permette di conoscerci ancora di più, di confrontarci. E quindi colgo l'occasione di questo tag che ho visto dal canale, dietro voi ho il computer dove leggo le domande, della mia amica dell'angolo degli arcani. Ovviamente vi lascio il link giù in infobox e questo video è stato ideato da Paola Style e da Alessandra Diavoletta e troverete anche qui i link per vedere i loro canali. Lei ha citato anche altre due persone dalle quali ha visto questo tag e come io infatti sto citando lei perché l'ho visto da lei. Penso che anche a lei piaccia tantissimo fare video tag, infatti li seguo molto volentieri e quindi lo faccio anche io. Il titolo di questo tag è il tag del sonno. Allora, argomento per me un po' così particolare. Vediamo, cominciamo subito con la prima domanda. Hai sonno leggero o dormi bene? Allora, non ho né sonno leggero e né dormo bene. Diciamo che io dormo veramente poco e niente. E vuoi per lo stress, vuoi per l'ansia, perché la mattina appunto ci svegliamo presto, accompagnare le ragazze a scuola, lavoro e quant'altro. Non lo so, io negli ultimi anni non riesco veramente a riposare. Infatti spesso la sera prendo delle tisane che favoriscono appunto il sonno, un po' di camomilla o la melatonina, che sono dei prodotti comunque sia blandi, voglio dire niente di che, ma giusto un attimino per rilassarmi. La domanda numero due. Cosa ti viene più facile addormentarti o svegliarti? Bella domanda questa qua. Sicuramente allora, non riuscendo a dormire bene tutta la notte, quant'è che prendo sonno? Prendo sonno praticamente nelle prime ore che è già quasi l'alba, quindi 5 e mezzo, 6 del mattino. Ed è chiaro che avendo preso sonno da poco non mi viene semplice alzarmi e svegliarmi, ma ahimè, ovviamente lo devo fare. Quindi forse mi viene un po' più semplice addormentarmi e meno svegliarmi. La domanda numero tre. Il letto lo condividi preferibilmente con mio marito, ovviamente. Sono sposata, quindi condivido il letto con mio marito. I primissimi mesi di vita lo condividevo anche con i miei figli, perché sì, dormivano, passavano ogni tanto nel lettone. Però ovviamente è chiaro che lo condivido con mio marito. Domanda numero quattro. Se la tua vita sentimentale fosse una musica, sarebbe quella di Grignani, La mia storia è tra le dita? E sarebbe, sarebbe, non mi viene in mente qualche canzone. Beh, a me piace Baglioni, Renato Zero. Generalmente associamo, visto che la canzone mia di mio marito è quella di Grignani, La mia storia è tra le dita, la associamo a questa canzone qui, a questa, sì, a questa musica. Domanda numero cinque. Di quante ore di sonno hai bisogno come minimo? Ormai non me lo chiedo più, credetemi, perché da quando ci sono arrivati i bambini, ovviamente le ore che ci si può concedere per dormire sono nettamente diminuite, perché erano piccoli. Adesso che sono grandi, subentrano altri tipi di problemi, nel senso che ti creano ansia, che ti creano magari stanchezza. E quindi nel mio caso non riesco a dormire, quindi veramente avrei bisogno di ore e ore di recupero per poter stare bene, quindi veramente neanche lo so, credetemi. Comunque almeno quelle quattro ore per tenermi poi in piedi un giorno, sicuramente. Domanda numero sei. Cosa vorresti sognare più spesso? Sicuramente vorrei sognare mia nonna, non la sogno mai, i miei nonni non li sogno mai, quindi sicuramente i miei nonni. Numero sette. Cosa ti fa più contenta vedere la mattina appena sveglia? La macchina del caffè. La prima cosa che faccio appena io, proprio mi sveglio, apro gli occhi ovviamente, oltre a stirarmi un attimo e rendermi conto se mio marito è ancora nel letto, si è alzato prima e tutto quanto, vado ad accendere subito la macchina del caffè, quindi proprio il mio impatto positivo della mattina è la macchinetta, santa macchinetta del caffè. Domanda numero otto. Vicino a cosa o a chi non vorresti mai svegliarti? Allora, non vorrei mai svegliarmi accanto a qualcuno che non sia mio marito, comunque a qualcuno che io non desidero avere al mio fianco, quindi qualcuno che mi è potuto fare del male, o mostri o cose, insomma qua diamo spazio veramente alla fantasia. Cosa? Beh sicuramente a me ad esempio danno fastidio, danno tantissima paura, gli scarafaggi, le lucestre, le cose, mi immaginate una cosa del genere nel letto, morirei, veramente morirei. Domanda numero nove. Cosa riesce a rubarti il sonno? Il sonno praticamente ruba tutti i miei pensieri, ruba i miei pensieri perché ovviamente dormendo non riesci, come dire, a essere lucida, a pensare, a essere concreta, quindi sicuramente dormendo non puoi pensare, è il che è una cosa ovviamente positiva, e dormendo non puoi agire, altrettanta cosa positiva, perché altrimenti, dico sempre, che se un giorno fosse fatto di 24 ore senza la notte, quindi senza dormire, probabilmente sarei 24 ore o a pulire, o fuori casa, o insomma operativa, e quindi sicuramente il sonno ci ruba veramente, ci ruba, oddio, ci toglie del tempo per pensare, non è una cosa malvaggia. Domanda numero dieci. Qual è stato il luogo più scomodo dove hai dormito? Sicuramente la macchina, perché noi ad esempio viaggiamo di notte, quando è capitato che siamo partiti per le vacanze e abbiamo viaggiato di notte, chiaramente il sedile di una macchina non è un letto, e quindi è veramente scomodissimo. Peggio ancora il sedile dei Pullman, impressionante. Allora sì, forse il sedile dei Pullman, ricordo una notte insonne quando sono andata a Roma, 10-12 ore di viaggio in Pullman, quando volevo morire, veramente, credetemi, è veramente scomodissimo, quindi sì. Niente, le domande sono queste qua, sono terminate, dieci domande. Se vi piace, se vi fa piacere, se vi è piaciuto questo tipo di tag, fatelo anche voi. Vi ringrazio come sempre, vi saluto, al prossimo video, ciao! Ciao!